Monica, in questo film sei una mamma, un'attrice, hai un rapporto con un ragazzo adolescente, tu hai due figlie. Com'è il rapporto con le tue figlie, visto che sei impegnata su più set, no? Ma sono con me qua, quindi verranno con me a Londra domani e cerco di fare in modo che il mio lavoro non tolga niente alla mia realtà di madre. L'importanza di essere in un film, di una produzione più piccola, poi sarai anche in 007 invece che un altro tipo di produzione, quanto è importante sostenere queste tipologie? Per me essere una piccola produzione, una grande produzione non è che cambi molto, quando sono davanti alla macchina da presa sono solo lì e quindi poi se c'è un grande budget o piccolo budget, quando sono davanti al mio ruolo non cambia niente. L'italiano iniziano a fare le mamme, no? Per paura di essere tagliato dal lavoro. Cosa direi? Direi che ci sono tante cose da cambiare ma bisogna fare un discorso più lungo anche sul tappeto rosso. Il personaggio è un'attrice e una madre, si nasconde un po' dietro al ruolo d'attrice, no? Le sue debolezze li nasconde un po' nel suo ruolo. A te mai è capitato? Di nascondermi? Sempre. Mi nascondo sempre. Grazie a tutti.